I poveri non nascono da soli, ma sono il frutto di una società che produce scarti. Come hai detto tu, questa mattina nella mensa della Caritas di Via Marsala, la struttura più importante del genere nella città eterna, si è provato a ragionare su come garantire accoglienza e sicurezza di Roma attraverso l'inclusione delle persone, attraverso l'inclusione degli ultimi. Due piccoli dati. Nel 2014 c'erano 7.800 senza dimora nella città eterna. Lo scorso anno erano diventati 22.000. Ne parliamo con il vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Ben Ambarus, che è stato anche direttore della Caritas cittadina. Allora, innanzitutto l'abbiamo ribadito e lo ribadiamo, la povertà non è una colpa, ma è un dramma e i poveri sono persone sulle quali non possiamo chiudere gli occhi. Allora, il desiderio è quello di scuoterci e scuotere anche le coscienze di tutti, perché se non ci mettiamo tutti insieme a fare la propria parte, noi rischiamo di essere stravolti da questa situazione, oltre che vedere che le persone vengono schiacciate. Allora, il desiderio è quello di rafforzare la dignità delle persone. Per esempio, bisogna rafforzare la residenza fittizia, i documenti, i diritti, la loro dignità. Altrimenti rischiamo di incrementare sempre di più l'elemosina, ma senza realmente dare alle persone la possibilità di fermare il declino di questa discesa negli inferi esistenziali e senza dare a loro la possibilità di risorgere sul serio. E questo è il nostro desiderio, di scuoterci a dire sono persone, non è colpa tua, camminiamo insieme. E su questo, se sono tanti poveri, forse dobbiamo chiederci che forse non stiamo facendo il nostro dovere tutti quanti, da noi a tutte le istituzioni. Come abbiamo detto, è la società che produce poveri, non sono loro che sono diventati poveri. Al congresso anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che praticamente lavorerà insieme con l'amministrazione in rete con la Caritas. E ora voi la linea allo studio. Vi aggiorneremo sui prossimi appuntamenti frutto del convegno.